Grazie professor Verita. Allora ci avviamo verso la conclusione con l'intervento del commissario europeo per la politica dei consumatori che potrà tirare di fila tutto questo discorso, il dottor Nehman, Mimica. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Agli e costi ADHD. Grazie a tutti. 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 che alcuni 15% dei consumatori sono già attivamente partecipate in nuove forme di consumazione, in quello che si chiamano una economia di share. Nuo negozioni e lavori sono stati creati in questo campo dinamico, dove la tecnologia digitale ha aperto nuovi mercati e opportunità. Un'euro studia che stiamo a completare anche mostro di più seriosi impacti su crisi. La nostra indeptenza ha aumentato in tutti i paesi del 2007, anche se la situazione varia per paesi. Questo può essere a causa di un'imploiamento e poverti, di un'implosione, di un'implosione, di un'implosione, di un'implosione, di un'implosione e di un'implosione. In effetti, l'economia economica ha mostrato che i consumatori non facciano sempre la scuola. Sono influenzati dalla forma che le scuole sono presentate e presentate. o che le scuole solo hanno lasciato il tempo e l'implosione per l'implosione. Un'implosione di un'implosione di un'implosione anche indicano che i consumatori, in un'implosione di finanziamento, facciano più pezzi di altri. La domanda non sta... anche con i consumatori di un'implosione di un'implosione di 56%, un'implosione di un'implosione di un'implosione di un'implosione che aiuta aiutare il mercato a funzionare. E che i consumatori che hanno un'implosione di più, non è un'implosione o un'integrazione, ma è un'implosione. di un'implosione di un'implosione di un'implosione di un'implosione che ha aiutare i consumatori a trovare migliori in un'implosione come il bancao o l'energia. Vi darvi un po' esami. Prima di tutto, la legislazione proposta sui conti in banca, queste leggi vengono racconsiderate dal Parlamento europeo. Questa legislazione deve includere una maggiore... ...for bank accounts and make switching to another bank easier. That will make sure consumers can find better deals and pay lower fees for their bank accounts. Every EU citizen will also have a basic right to open a basic payment account irrespective of their financial situation. At the same time, the financial services industry will benefit from increased mobility of clients and from reduced barriers to enter the market including those in other EU countries. This file is one of my priorities and I am working with all actors involved in the legislation process to have this file adopted in the current legislation. If adopted this legislation, making accounts actually might be, let us say, a contribution to avoid the present situation where we can say that all consumers are vulnerable consumers when dealing with banks, when being in the financial services sectors. Otherwise, we launched a study on mapping the vulnerability patterns of consumers in many other aspects and many other sectors in order to see what are really the vulnerable consumers and what the vulnerable consumers would need. But here, when dealing with banks, we are all vulnerable. In most, so, I would come now to the second example and this is the energy market. Energy markets in the European Union has already set rules to make it easier to switch supplier. and this may not take more than three weeks. When something goes wrong between an energy supplier and a consumer, complaints must be dealt within two months and easy and fast dispute resolution must be available. In more and more countries, including Italy, we are now seeing consumer associations set up collective energy buying initiatives that help to switch and bring prices down. At the same time, we should remember this is not a universal solution due to the low number of energy providers in some EU member states. Liberalization of services should bring more choice opportunities and lower prices. More liberalization should not lead to more confusion of the consumers. Consumers deserve to be helped. To help consumers make better choices, consumers' associations need to deliver reliable consumer information and advice. That brings me to the second theme of today, how to improve the effectiveness of consumer associations in Italy. Consumers' associations face a real challenge in this fast-moving world. They need a high level of professionalism and technical expertise to see clear in complicated and sometimes opaque markets. They need up-to-date communication skills and they need secure funding to make it all possible. I strongly support the idea to fund consumer associations using part of the fines paid by companies that violate anti-just legislation. but I think that spreading this money over a multitude of separate national and regional organizations is probably not the most cost efficient way to strengthen the consumer's voice. to represent the national and regional organizations. which is forse the most efficient way to finance them, and to allow them to have a lot of pressure in the negociations with companies and in front of the frammentation, we need to join forces. a livello nazionale, dobbiamo creare sinergie a livello europeo e nazionale. Più vicino possibile dove le persone vivono. I don't agree with the message that one that's loud and clear from the analysis that the census has made that change is necessary and means to the human community that the source of the past may not fit the needs of the system. I am aware that at least one of the organizations of this country already operate according to a modern the organizations of consumers in this country work already in a system open in countries such as Germany or the UK the countries such as Germany such as the Belgium or the Britain or the Great Britain and they conduct verifications comparative and I see that initiatives like the Consumers Forum that stimulate the cooperation with the ONG as they say they have to go and we have to move on and that I think we would invite to continue in that direction for to use financial and human resources of the resources and also human resources we would invite the Commission Europe La Commissione europea vuole sostenere le organizzazioni italiane in questa direzione. Il prossimo anno vi sarà un programma fondamentale a riguardo per poter stabilire una piattaforma comunitaria dove le organizzazioni dei consumatori possano scambiare le buone prassi e possano condividere le loro informazioni in merito all'impatto della loro attività per poter rafforzare la loro esperienza tecnica in settori particolarmente complessi come quelli dei servizi finanziari, energetici e nelle telecomunicazioni per poter migliorare il carattere professionale di queste organizzazioni. Ed anche la progettazione aziendale diventerà una priorità in tal senso. Anche la formazione diventerà accessibile per il personale di tali organizzazioni. Quindi il mio messaggio riguarda il ruolo delle autorità negli Stati membri. Per poter far funzionare i diritti dei consumatori nella vita reale dobbiamo avvalerci della legislazione esistente, ma se non la applichiamo questa non può dare frutti. Quindi dobbiamo capire come poter collaborare con le autorità pubbliche per applicare le leggi e dobbiamo utilizzare anche i siti per la protezione dei consumatori vulnerabili. Dobbiamo anche considerare le infrazioni su larga scala che avvengono in modo simultaneo in vari Stati europei. Venerdì scorso ho lanciato una consultazione strategica pubblica per preparare un miglioramento a lungo termine riguardo al rispetto del diritto dei consumatori per quanto riguarda la normativa per la tutela dei consumatori. Voglio coinvolgere in tal senso tutti gli attori rilevanti. Quando si parla dell'applicazione rispetto ai diritti dei consumatori la nuova direttiva europea è fondamentale e la normativa in merito permette di dirimere le controversie in ogni settore in modo efficace e rapido. Gli operatori ne trarranno vantaggio perché potranno mantenere relazioni efficaci e potranno ridurre i costi. Per quanto riguarda le controversie sulle vendite online abbiamo creato un nuovo modo innovativo di risolvere i conflitti. vi sarà una piattaforma online che sarà disponibile dal 2016 in tutte le lingue ufficiali europee. Per quanto riguarda il Collective Regress dobbiamo prendere un primo passo coerente ed efficace per quanto riguarda le normative adottate a giugno dello scorso anno riguardo alla concorrenza e la tutela dei consumatori questa invita gli Stati membri a stabilire meccanismi che siano omogenei tra i vari paesi europei io voglio chiedere agli Stati membri di attuare rapidamente le raccomandazioni e condividere le loro esperienze preziose gli uni con gli altri per poter far fronte a queste sfide forse alcuni si aspettavano qualcosa di più si aspettavano qualcosa di vincolante ma questa raccomandazione può essere direi molto razionale ed è stato un passo che è stato reso possibile dopo negoziati lunghi e studi molto approfonditi quindi signore e signori questo è il modo in cui la Commissione europea vuole rendere le politiche per i consumatori più efficaci questo è quello che volevo presentarvi oggi e ora aspetta a noi migliorare ed innovare e contribuire per contribuire a tale processo attraverso discussioni applicazioni delle leggi e controlli spetta a tutti voi a tutti gli attori a tutte le organizzazioni dei consumatori a tutte le società a tutti i legislatori migliorare tale processo e dunque attendo da parte vostra delle raccomandazioni degli scontri che mi permettono di migliorare le politiche di tutela dei consumatori in Europa dunque grazie per questa opportunità di poter parlare con voi questa mattina delle mie priorità e grazie per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti